Eccoci qui, le 8 e 31 minuti e ci dovrebbe aver raggiunto nel frattempo in collegamento video Valentina Di Francesco, vediamo se è pronto il collegamento. Buongiorno a tutti. Eccoci qui, Valentina Di Francesco che è il referente di ESN Erasmus Student Network di Foggia, non vedo ancora, ecco qui il ritorno video. Ciao Valentina, grazie per averci raggiunto. Buongiorno, grazie a voi per l'invito, grazie a tutti. Ed è un piacere in realtà rivederti perché non è la tua prima volta qui, seppur virtualmente negli studi di Padre Pio TV, e allora vorrei partire nuovamente proprio da quella che è l'attività di ESN, ripercorrendo, ecco, seppur con quelli che sono i nostri tempi televisivi, quella che è la realtà Erasmus Student Network, perché esiste questa realtà e quali sono le sue principali attività. Allora, noi come Erasmus Student Network Foggia esistiamo da 2009, quindi siamo anche un po' vintage, un po' anziani, diciamo così. Siamo un'associazione riconosciuta a livello europeo, siamo presenti in tutte le città dove vi sia un'università a livello europeo, siamo riconosciuti dalla Commissione Europea. Come SN Foggia, ma insomma come tutte le città d'Italia ed Europa, organizziamo tutta una serie di eventi per rendere la mobilità, il periodo di mobilità degli studenti Erasmus che sono in visita a Foggia migliore, sotto tutti i profili, punti di vista. Quindi organizziamo per loro attività di tipo culturale, la scoperta delle bellezze della nostra città, attività di tipo ludico, perché i ragazzi vogliono anche divertirsi giustamente, ma soprattutto ci concentriamo su quello che è il volontariato. Quindi cerchiamo di far sì che i ragazzi si integrino perfettamente con la società e la cultura che li ospita, e nel contempo che insomma cerchiamo di far sì che i ragazzi lasciano la loro impronta, il loro segno qui in città. Quindi proprio per questo quest'anno abbiamo sviluppato un nuovo progetto che è il Green Erasmus, sull'onda poi di quella che è la mission dell'Unione Europea di quest'anno, di questi ultimi anni. Abbiamo portato i ragazzi presso l'associazione BiriLà, con cui abbiamo una partnership, per sensibilizzare i ragazzi più giovani al tema del green, al tema del riciclo, in collaborazione anche con Alessandro Scolozzi, che è il referente locale di Plastic Free. Quindi questa è stata un'avventura nuova, ma che ci ha impegnati tantissimo, e sicuramente rifaremo. Valentina, qual è la provenienza? Che hanno i ragazzi che arrivano in Italia, nel caso specifico di questa sezione SN, a Foggia? Da dove arrivano solitamente? Allora, noi riscontriamo sempre ogni anno una maggioranza, una grande maggioranza di spagnoli e turchi. Però non ti nascondo che Foggia ospita gente da tutta Europa, da tutta Europa ed oltre, perché l'Università di Foggia ha stretto un sacco di belli accordi con tutta l'Europa e anche fuori. Quindi possiamo vantare gli evidenti Erasmus che arrivano da tutto il mondo, fondamentalmente. Però insomma, se mi chiedi delle statistiche, spagnoli e turchi sono la maggioranza. Spesso si parla, Valentina, di Foggia anche solo in modo negativo, con quelle che sono sfortunatamente le notizie di cronaca nera o con quelle che, diciamo, non sono belle pagine per il capoluogo pugliese. Ti faccio questa domanda, ecco, in qualche modo hai detto anche appunto di questo incremento di studenti spagnoli, turchi. La domanda è doppia, quindi da un lato se ritieni che questo incremento di studenti spagnoli, turchi, sia anche in qualche modo legato magari ad un passaparola che studenti prima di loro hanno fatto tra studenti, tra varie generazioni di studenti Erasmus in questi anni, che quindi in qualche modo abbiano promosso la metafoggia. E la seconda domanda è se in realtà probabilmente anche proprio gli studenti Erasmus, su studenti provenienti da ogni parte dell'Unione Europea, in qualche modo lasciano poi qualcosa di positivo nella città capoluogo, in qualche modo anche per descriverla in un altro modo. Allora, rispondo subito alla prima domanda perché ti posso assicurare e garantire che è così. Il passaparola è fondamentale. Noi abbiamo un sacco di ragazzi che ci contattano dicendo Io sono il fratello di Io sono, l'amico di, che mi ha consigliato Foggia perché Foggia è una città che offre mille opportunità, perché ci siete voi della SN che ci supportate tantissimo. E quindi questa cosa ci fa immensamente piacere, chiaramente, perché questo è il nostro obiettivo, come ti ho detto, di garantire dei servizi principali e non agli studenti. E sicuramente ti posso dire che grazie anche alle nostre attività, soprattutto alle nostre attività, i ragazzi che arrivano qui, e siamo anche fortunati, perché troviamo sempre terreno fertile, sono sempre intenzionati a lasciare un buon ricordo di se stessi alla città. Quindi abbiamo una grande partecipazione da parte degli studenti a queste attività che non sono propriamente di tipo ludico, ma sono più impegnative, hanno un'impronta più social e prettamente di volontariato. Quindi siamo anche fortunati, perché i ragazzi che ci seguono sono ragazzi straordinari. E spero che anche alla cittadinanza arrivi questa sensazione che abbiamo noi, insomma. Cerchiamo di fare il nostro meglio. E per i ragazzi Erasmus che arrivano da tutte le parti d'Europa, Foggia in qualche modo è anche la porta d'Italia, perché attraverso voi hanno anche poi la possibilità in realtà di conoscere altre mete, altre destinazioni in Italia. Da cosa secondo te sono più affascinati della nostra Italia? Ti dirò, moltissimi restano affascinati dalla Puglia, da terre che non conoscerebbero altrimenti, quindi Polignano, Alberobello. Parliamo di queste realtà, loro rimangono proprio affascinati. Ma anche dai paesi dei Monti Dauni abbiamo diversi episodi in cui i ragazzi ci ritornano dopo esser stati con noi, con i familiari, con gli amici, portano i parenti a visitare questi posti. Altre città che sono molto gettonate, chiaramente Roma, la capitale, e anche Milano, chiaramente, Firenze. Però la Puglia per i nostri resta proprio casa. Alcuni se la tatuano, alcuni si tatuano le coordinate della Puglia, di Foggia addirittura. Vogliono tornare, e ce ne sono tanti che ci contattano perché tornano anche solo per un weekend a Peschici, a Vieste, perché li abbiamo portati e vogliono tornarci dopo tanti anni. Certo. Invece ti faccio la domanda al contrario. Erasmus Student Network è appunto una rete di sezioni SN attive non solo in Italia, ma ovviamente in tutta Europa. Qual è invece l'esperienza che hai da parte di studenti italiani che vanno all'estero e qual è il loro rapporto con le analoghe sezioni SN? Guarda, molto positivo, perché noi abbiamo, tra l'altro, anche una delle nostre mission è quella di creare un network di buddy, il cosiddetto buddy system, quindi i ragazzi di SN di tutta Europa si mettono in contatto con i futuri Erasmus in coming e danno loro notizie, informazioni utili, si mettono proprio in contatto con loro durante tutto il periodo di mobilità. E i ragazzi che rientrano in Italia chiaramente hanno subito voglia di ripartire, perché poi l'Erasmus sai bene che ti prende e non ti lascia più come esperienza di vita. E anche loro hanno una bella esperienza, soprattutto con la Spagna, devo dire la verità. I ragazzi foggiani che partono e rientrano dalla Spagna sono sempre super motivati, vogliono far parte di SN proprio perché sono venuti a conoscenza della sezione della città ospitante, quindi penso che anche i colleghi facciano un ottimo lavoro. Perfetto, infine per terminare, qual è secondo la tua esperienza anche di studente Erasmus oggi il rapporto tra i cosiddetti studenti outgoing, cioè studenti che da Foggia o comunque dall'Italia vanno all'estero e studenti invece in coming, cioè studenti che dai vari stati dell'Unione Europea arrivano in Italia o in questo caso a Foggia, qual è oggi il rapporto? È un rapporto più o meno equilibrato o no? Ti dirò sì, rispetto ai miei primissimi anni da studente Erasmus e in SN, il rapporto è migliorato, si è ingigantito parecchio perché adesso i ragazzi non sono più, permettimi il termine, sprovveduti come eravamo noi dieci anni fa quando partivamo per questa esperienza. Quindi sicuramente anche a livello linguistico, a livello culturale sono molto più informati, sono molto più curiosi e quindi c'è una voglia di mettersi in contatto, di mettersi in gioco, di continuare quell'esperienza attraverso insomma le amicizie con i ragazzi che sono qui, che sicuramente è una bella realtà. Infatti stiamo avendo anche molta gente nuova che ci dà una mano proprio per questo, perché il progetto Erasmus è diventato una realtà all'ordine del giorno, prima era più insomma d'elite, diciamo così. E allora ricordiamo i vostri contatti social e altro, in che modo poter entrare in contatto con la vostra realtà? Sicuramente consiglio in primis la nostra pagina Instagram, perché lì siamo i più attivi, rispondiamo subito a qualsiasi domanda di eventuali volenterosi di entrare a far parte della nostra associazione, quindi snfoggia su Instagram, abbiamo una nostra pagina Facebook, sbarcheremo anche su TikTok molto presto, e abbiamo anche una sede da quest'anno, quindi ci trovate in via Miracoli 2, che è una stradina in pienissimo centro, quindi a noi fa più che piacere, se vuole, insomma, per chiunque voglia join the crew, vi aspettiamo. Grazie, grazie Valentina per questa testimonianza, per questo bellissimo ricordo di quella che è la vostra attività, affoggiamo in generale in Italia di tutte le sezioni SN di Erasmus Student Network, so che stai per andare al lavoro, quindi ti liberiamo e allora in bocca al lupo per la vostra attività e buona giornata a te. Grazie mille a te per l'invito, Felice, grazie, buon proseguimento. Grazie, era Valentina Di Francesco di SN, Erasmus Student Network Foggia, e noi allora ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità e poi torniamo qui con gli aggiornamenti e con tutto il resto di questa puntata di Just Today.